Nuovo appuntamento con gli esperti di Q, consulenze finanziarie. Insieme a Paolo Giovanardi, questa sera parliamo di TFR e della possibilità di anticiparlo in busta a paga. Cerchiamo di capire se è una soluzione che presenta vantaggi o è necessario fare attenzione. Sì, è una scelta importante, prima di tutto perché è una scelta che per tre anni è irrevocabile. Quindi fino al 2018 non sarà possibile poi modificare la scelta stessa. E secondo perché è una scelta abbastanza nuova nel panorama italiano. Il vantaggio sicuramente è quello di avere una busta a paga più corposa. D'altro canto, come si sa, la tassazione rende meno vantaggioso, anzi oggi si può dire che fiscalmente non è assolutamente vantaggioso anticipare il TFR in busta a paga. Da marzo i lavoratori dipendenti, privati e pubblici saranno chiamati a esprimersi su questa scelta. A prescindere da questa possibilità di anticipare il TFR in busta a paga, resta la scelta fondamentale se destinare il TFR in azienda oppure un fondo pensione. Cerchiamo di capire rischi diversi fra le due scelte. Sì, la prima cosa da dire è che in una scelta così importante è giusto partire proprio dai rischi. Allora per quanto riguarda chi lascia il TFR in azienda non c'è un rischio direttamente collegato all'assolvibilità dell'azienda. E quindi in caso di aziende che vanno in insolvenza è precostituito un fondo di garanzia dell'Inps. Di conseguenza è quello che garantisce il fondo stesso. Per chi invece fa affidamento sui fondi pensione tradizionali è previsto un insieme di norme che deve rispettare la banca o la società di assicurazione e c'è la supervisione di un organo di vigilanza. I vantaggi invece quali sono nelle due scelte? Sì, questo è un argomento molto complesso e molto vasto. Provo a riassumere in poche parole le cose principali. Indubbiamente è una scelta di fondo che è diversa tra lasciare il TFR in azienda oppure in un fondo pensione. La finalità principale di chi lascia il TFR in azienda è duplice. È quella di finanziare l'azienda stessa e anche quella di avere come obiettivo per il proprio TFR una rivalutazione nel tempo legata al costo della vita. Non è un caso che appunto il TFR si rivaluta con un parametro che è l'1,5% più una percentuale, il 75% dell'inflazione stessa nel corso degli anni. Chi invece aderisce a un fondo pensione tradizionale ha diversi vantaggi e cose anche da verificare. I vantaggi sono quelli di poter beneficiare eventualmente anche dell'apporto del datore di lavoro in primis e il secondo è anche quello di poter scaricare fiscalmente quanto si versa durante l'anno fino a 5.000 euro circa. La cosa importante però da verificare insieme a questi aspetti è sicuramente il tipo di fondo pensione che si ha, anzitutto in termini di efficienza perché spesso i costi possono ridurre drasticamente i rendimenti e anche il capitale e seconda cosa anche il discorso legato al rischio, cioè ci sono precise valutazioni che vanno fatte sul rischio che si ha nella linea di investimento scelta proprio per non ritrovarsi al momento di beneficiarne ad avere un capitale decisamente inferiore rispetto a quello che si è versato. Quindi vale sicuramente la pena prendere l'iniziativa e andare a vedere un po' meglio finché sia in tempo come e dove sono investiti questi capitali.